Il fenomeno del randagismo a Gela è presente, lo raccontano le crone che in più di un'occasione si è tentato di intervenire ma con scarsi risultati. Se ne stiamo parlando anche oggi vuol dire che non è stato fatto tutto. Ricordiamo cosa accadde anni addietro, addirittura proprio a seguito di una vera e propria avanzata di cani randaggi furono interdette alle persone due aree pubbliche, le mura Timoronte di Caposoprano e l'acropoli di Mulino a Vento. Il provvedimento fu messo da Ennio Turco, dirigente del Parco archeologico regionale, per motivi di sicurezza. E non solo, il sindaco Domenico Messinese l'anno scorso, proprio di questi tempi, era intervenuto con un'ordinanza per impedire alle persone di passeggiare a ridosso del torrente Gattano per la presenza di numerose aree a rischio. E' identico cliché anche alla periferia a nord di Via Butera, dove i cani trovavano e trovano cibo dalle discariche abusive a cielo aperto. Una situazione che da non prendere sotto gamba, quella del randaggismo. Bisogna intervenire con gli strumenti che il Comune deve mettere in atto, coinvolgendo ancora di più le associazioni che si occupano dell'acrappiamento cani. L'ultimo episodio di randaggismo in ordine di tempo si è verificato qualche giorno addietro in Contrada Roccazelle, nei pressi della Cidia Village, luogo di ritrovo di numerosi bagnanti, grandi e piccoli. Vittima di quello che stiamo per vedere, ripreso da più telecamere del circuito di videosorveglianza dello stesso locale, è una ragazza di 28 anni. Si chiama Manuela Fraghica. Adesso sta bene, ma quel primo agosto scorso non lo dimenticherà mai. Come si vede dalle immagini, la ragazza tiene al guinzaglio e al suo cagnolino un volpino di colore bianco. Sulla strada non c'è nessuno, solo lei e il suo cane. Ma è questione di secondi. Ad un tratto arriva un branco di cani a randaggi che tenta di azzannare il volpino. La ragazza cerca di allontanarli, ma loro ritornano famelici più di prima. La ragazza cade ed un randaggio la morde alla caviglia. Sono attimi di paura, infiniti. Il volpino quasi viene ucciso dagli altri cani. Tutto avviene in pochi secondi. Poi qualcuno dei residenti si accorge di quanto sta accadendo e scende in strada. I randaggi vanno via. Adesso, a distanza di quattro giorni, Manuela e il suo piccolo cagnolino sanno bene. L'animale è stato sottoposto ad accertamenti da un veterinario al fine di verificare la presenza di fratture. E sono scattate anche le denunce. Perché in quella zona, dicono i residenti, la presenza dei cani a randaggi è all'ordine del giorno. Grazie. Grazie.